Seppi Nicola che lo risupera l'altro! Forse, forse, forse sta bambina! Forchissima proprio! Mamma mia! E' proprio fatto per lei! Se li mangi al testa! Vediamo! Già l'ha superata di tutte e tre, la seconda volta ha doppiato un altro e mi sa che vuole andare a prendere di nuovo, doppiare pure il secondo e doppia pure il terzo. La vediamo! Eccola, si sta avvicinando! Bravissima! Lo sta andando a prendere! Vediamo, vediamo! L'ha quasi raggiunto Nicola! Vediamo! Lo vuole andare a friare, lo vuole doppiare l'altro! Eccola! Vediamo! Prima l'ha doppiato in curva, vediamo Nicola, vediamo! Sempre l'arca e lo stringe, bravissima! L'ha ridoppiato! Vediamo se prende il terzo! Non solo li ha superati alla prima, ma li sta anche raddoppiando! E' scatenata, è scatenata, è scatenata, è scatenata Nicola, vediamo, è scatenatissima! Vuole andare la riviare, vediamo, pure questo! Raddoppia tutti quanti, grande lezione di rock art! Vediamo, vediamo, ormai si è imparato a superare in curva, vediamo, vediamo, se la rischia, se la sta a rischia! Primo tentativo, vediamo, vediamo, eccola, 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 l'ha piato, l'ha piato! Mamma mia che gara, non la vuole far passare, non la vuole far passare! Rosica Nicola, vediamo, vediamo Nicola, non demorde, l'ha preso, l'ha preso sul rettilineo e lo sorpassa! Top! Top Nicol Nanni, ragazzi, vediamo se va via pure l'altro, ha già raddoppiato i due e vuole raddoppiare il terzo, vediamo, vediamo, in curva sempre, la fa decelerare, lo prende! Top! Brava! Non ce n'è per nessuno!